Le pagine sul nuovo governo ed intorni ci portano al sondaggio di questa settimana. Prima di vedere come andrebbe se si votasse oggi, c'è un'evidenza di sondaggio che vi devo mostrare. Il sostegno al governo Draghi. Secondo lei il suo partito, quello per cui ha votato, ha fatto bene a garantire sostegno al governo Draghi? Vedete che gli elettori del PD rispondono di sì al 91% e soltanto c'è un 6% di no. Gli elettori della Lega 76% sì e 16% no. Ma anche tra gli elettori del Movimento 5 Stelle 63% sì, 27% no. E di converso, ha fatto bene Fratelli d'Italia a rifiutarsi di dare il sostegno al governo Draghi? E nella direzione, fra l'altro, del partito che è in corso in questo momento, Giorgia Meloni ha proposto il no, non la stessione, è proprio il no parlamentare al governo. Il 48% degli elettori di Fratelli d'Italia dice di sì e il 39% però dice di no. Tanto per intenderci, vi facciamo adesso vedere un altro dato. Questi sono, come vedete, i numeri del livello di fiducia degli ultimi governi, degli ultimi governi come vedete dall'inizio degli anni 90. Vedete quel 48 per il primo governo Andreotti, 47 Ciampi, 48 Berlusconi e poi a scendere 43 Prodi, 44 D'Alema, 40 Amato 2, 46 Berlusconi 2, 36 Berlusconi 3, 45 Prodi 2, 49 l'ultimo Berlusconi, 71 all'inizio, questo era il livello della fiducia per Monti, 62 per Letta, 47 per Renzi, 30 per Gentiloni, 58 per Conte, 42 per il Conte 2 e ora 65 e quindi per intenderci nello storico che vedete dietro soltanto all'inizio di Monti per quanto riguarda Mario Draghi e il governo che è appena nato. Come avete visto però è vero che il buongiorno si vede al mattino ma non è detto che una buona giornata al mattino poi significhi che tutta la giornata è buona nella similitudine per l'azione di un governo e di un Premier. Ma la vera notizia forse è che la nascita di questo governo non ha portato frutti ai principali quattro partiti, alle forze principali per numero di consensi virtuali perché non si sta votando. Se si votasse oggi la Lega 23,5, meno 0,5 rispetto a una settimana fa, Partito Democratico 18,8, meno 0,2 rispetto a una settimana fa, Fratelli d'Italia 16,2, meno 0,3 rispetto a una settimana fa, Movimento 5 Stelle 15,4, meno 0,4 rispetto a una settimana fa, Forza Italia 6,9% più 0,5 rispetto a sette giorni fa, azione di calenda 4,3 più 0,3, poi dietro è anche sinistra italiana 4% più 0,3, sinistra italiana è ufficialmente spaccata da MDP, è articolo 1, ora rispetto al sì al governo, non lo darà appunto sinistra italiana, l'ha deciso Fratoianni, che però sarà l'unico parlamentare a non votare quella fiducia. Italia Viva resta ancorata al 3,1%, guadagna lo 0,2 più Europa al 2,1 e più 0,1 anche i Verdi all'1,8%.